Buongiorno e benvenuti. Sono Yulek Limna e oggi sarò il moderatore di questo webinar. Come ben sapete, nella primavera di quest'anno sono stati approvati i nuovi criteri ambientali per la gestione del verde urbano. Questi CAM prevedono come elemento strategico per i comuni il censimento del verde a tre livelli. Il primo livello è un censimento dei coffini delle aree verdi obbligatorio per tutti i comuni. Il secondo livello è un censimento arborio obbligatorio per i comuni sopra 15.000 abitanti a partire del 2021. Questo livello di censimento include informazioni su tutti gli alberi che ricadono in aree verdi pubbliche. Il terzo livello è un censimento completo di tutti gli elementi all'interno delle aree verdi. Questo livello di censimento va più in dettaglio e quindi include non solo le erberature ma tutti gli elementi della vegetazione come siepi, prati e arredo urbano come giochi, panchine e paventazioni che ricadono all'interno delle aree verdi. Nel webinar di oggi vi presenteremo uno dei metodi per svolgere un censimento completo di terzo livello e di seguito vi mostreremo come questo censimento completo può essere importato nella piattaforma Green Species per la gestione della manutenzione del verde urbano e stradale. Passo la parola all'ingegnere Emanuele Davereo della ditta SCM, una società che da oltre 40 anni svolge i rilievi del territorio. Prego Emanuele. Buongiorno a tutti, grazie Giulia innanzitutto. Ecco mi presento, sono Emanuele Davereo, sono socio amministratore della società SCM di Milano, azienda che opera nel campo della geometrica, del territorio, della topografia e della fotogrammetria da oltre 40 anni. Parliamo oggi quindi di rilievo del verde, innanzitutto grazie a R3G, a Paolo Viscani, a tutto il suo team per questa collaborazione che ormai dura da 15 anni e su cui appunto abbiamo potuto approfondire il tema del rilievo del verde, quindi andando ad applicare le tecniche di rilievo, di topografia, di fotogrammetria, che è il core business della nostra società, per il servizio del verde, sia pubblico che privato. Un piccolo incipit sull'importanza del rilievo del censimento informatizzato delle aree verdi. Chiaramente l'ottenere, l'avere una banca dati georiferita, georreferenziata, precisa, puntuale e quanto più completa è sicuramente il punto di partenza per una gestione efficace e ottimale del verde pubblico in particolare. quattro metodi per lo stesso risultato, come dicevo appunto, i metodi per la rilevazione del verde la possiamo fare, la possiamo ottenere con la fotogrammetria, piuttosto che la topografia classica laser scanner, piuttosto che i rilievi GIS. Rilievo integrato del verde con tecnica fotogrammetrica è quello che in questo momento stiamo adoperando maggiormente, in questi ultimi anni stiamo lavorando parecchio e bene su commesse importanti, su comuni e città molto importanti, come per esempio Rimini, Igea Marina, Sant'Arcangelo, piuttosto che la Spezia, Cagliari, sono città molto grandi che si sono dotate, che si stanno dotando di questi sistemi sia informativi che delle banche territoriali. Per fare questo rilievo sicuramente la fotogrammetria è quello che è più interessante, più che altro per la rapidità. In poco tempo riesco a rilevare mappare aree molto ampie, soprattutto perché il verde pubblico, come noto, non è raggruppato per aree, ma è un pochino a macchia di leopardo, quindi è un pochino ovunque. La fase principale è quella del volo aereo, quindi di una ripresa stereoscopica per poter ottenere un modello tridimensionale del terreno e quindi poi operare per il rilievo di tutto quello che necessita. Accanto a sensori di tipo fotografico possiamo poi montare eventualmente anche altri tipi di sensori che potrebbero essere quelli per le riprese multispettrali e quindi andare a fare anche dei monitoraggi specifici di salute, dello stato di salute della vegetazione su indici NDVI. Piuttosto che negli ultimi anni abbiamo affiancato anche la fotogrammetria da drone per chiaramente superfici più modeste, magari in ambito urbano piuttosto che in ambito privato, andiamo a fare lo stesso tipo di operazione, quindi il rilievo fotogrammetrico con delle riprese fotografiche da drone. Questo ci permette di avere dei dettagli molto più alti, delle precisioni più alte, abbiamo addirittura delle precisioni che sono centimetriche. Questo ci permette poi con la tecnica dell'image matching di ottenere nuvole di punti come fosse un laser scanner e poi fare delle modellazioni tridimensionali molto interessanti. Accanto a queste tecniche di rilievo sicuramente è il laser scanner che lo stiamo utilizzando sempre più, di due tipi, sia aviotrasportato che terrestre. Aviotrasportato lo utilizziamo più che altro in ambito montano su elicottero, mentre invece di recente abbiamo fatto un interessantissimo rilievo laser scanner dell'orto botanico del comune di Bologna con un rilievo a terra con più di 200 scansioni. La topografia classica rimane sempre la tecnica più importante, nel senso che posso andare in qualsiasi posto, rilevare qualsiasi elemento in condizioni critiche. Il grande problema della topografia è che quando devo fare un rilievo su grandi aree, su interi comuni, chiaramente ho dei problemi di tempi e di costi. Immaginatevi cosa voglio dire mandare delle squadre topografiche, minimo due persone, con tutta l'attrezzatura e fare un rilievo puntuale su tutto il territorio. Rilievi GIS sicuramente al termine dell'operazione di rilievo topografico fotogrammetrico andiamo poi a fare dei censimenti che possono essere di tipo botanico piuttosto che sulle attrezzature, sugli attrezzi ludici, con dei semplici tablet, magari con applicativi come Green Spaces che permette l'utilizzo di tablet in campagna e lavorare direttamente sulla banca dati. Il risultato finale. Il risultato finale è quello di una database del verde di una banca dati geografica, georeferenziata, con precise tolleranze e precisioni che sono definite dalle specifiche tecniche, un strumento indispensabile per attività di progettazione, di riqualificazione, di manutenzione del verde nelle nostre città ed è sicuramente lo strumento chiave che garantisce un alto livello di sicurezza, per esempio degli alberi, delle attrezzature ludiche e un'efficienza dell'intero sistema, dell'intero sistema verde. Che cosa rileviamo? Con tutte queste tecniche, in particolare con quella fotogrammetrica, si può sicuramente fare il rilievo della cartografia di base, quindi del db topografico piuttosto che dell'ortofoto che poi possono essere supportate sull'applicativo Green Spaces, il rilievo del verde orizzontale che significa quindi andare a mappare tutte quelle che sono le superfici a verde in gestione, quindi i prati, le aiuole, le aree tappezzanti, il verde verticale che comprende gli alberi, gli arbusti, le siepi, i cespugli, le aree gioco, quindi con rilievo puntuale sia delle aree funzionali che delle attrezzature, attrezzature sia per i bambini piuttosto che sempre più diffuse aree fitness e strutture di questo tipo, gli impianti di regazione, Green Spaces permette di utilizzare tutti i dati di rilievo degli impianti di regazione, noi andiamo a fare un censimento, una mappatura completa che parte dall'adduzione dell'acqua passando per le centraline, per le valvole fino a indicare il posizionamento degli irrigatori con tutte le caratteristiche. Ultimo ma non ultimo, chiaramente l'arredo urbano, quindi rileviamo, mappiamo e includiamo nella banca dati del verde tutto quello che è l'arredo urbano in termini appunto di panchine, giochi, punti luce, reti tecnologiche in genere e tutte le aree pavimentate, che possono essere anch'esse soggette di lavorazioni e quindi di nuovo gestite tramite l'applicativo. Quali sono i vantaggi? Sicuramente il vantaggio è quello di avere una banca dati assolutamente integrata, integrabile nei più ampi sistemi formativi del comune, sicuramente il vantaggio di gestire, mantenere in sicurezza alberi e piante, piuttosto che le aree giocole, attrezzi ludici e soprattutto poi pianificare gli interventi di manutenzione e monitorare i lavori stessi. Come diceva Giulia, il modello dati del verde che utilizziamo, che deve essere utilizzato oggi, è quello definito dal decreto del 10 marzo 2020 che il Ministero dell'Ambiente di tutela del mare ha definito con i criteri ambientali minimi, ha legato a questo documento, a questo decreto, c'è anche il documento nella versione 2.1 del 2020, quindi le specifiche tecniche per il rilievo. È un documento che sostanzialmente nella sua terza, quarta versione, la prima già dal 2005, per mano appunto del professor Guzzetti e del dottor Viscanice, su cui noi lavoriamo già da tempo. Vediamo ora, nello specifico, un esempio di rilievo con la tecnica fotogrammetrica che è quella che ci preme presentare perché è quella che interessa maggiormente gli enti pubblici comuni o comunque superfici considerevoli e quindi mettiamo in luce tutta la filiera di produzione fino al caricamento nella piattaforma Greenspaces. Cambio. Eccoci. Immaginiamo che un comune ci commissioni il rilievo e il censimento delle proprie aree verdi. Riportiamo qui l'esempio di una porzione di territorio nel comune di Sant'Arcangelo per il nostro cliente Antea. Immaginiamoci che il comune ci chieda di andare a mappare tutto il verde sul proprio confine comunale sulle quali insistono diverse aree di gestione del verde, come dicevamo prima, un pochino sparse ovunque, sicuramente più concentrate nel centro della città, del nostro paese, ma sicuramente poi ho la necessità di fare dei rilievi anche nelle zone periferiche. Immaginiamoci che un comune ha da gestire tutto il comparto di contorno delle strade, generalmente tutto il comparto delle scuole, delle strutture sportive, piuttosto che dei cimiteri, per esempio. Ecco, la tecnica fotogrammetrica ci permette di andare a fare un ball fotogrammetrico come questo che vi mostro e quindi con un aereo si sorbola l'intero territorio, si fa una ripresa, ogni quadratino che vedete è un fotogramma, quindi si fa una ripresa con una sovrapposizione molto spinta, sia tra fotogrammi adiacenti che tra strisciate adiacenti, in modo da ottenere dei modelli stereoscopici tridimensionali. Cosa significa avere questi fotogrammi? Avere dei fotogrammi ad altissima risoluzione come quelli che vi mostro, che vengono eseguiti in successione, in questa maniera. e sono dei fotogrammi, tra l'altro qui potete vedere in un formato un pochino compresso per motivi di velocità e di disnellezza nel proporvi questa presentazione, però è già possibile apprezzare il grado di dettaglio che ho con questo tipo di ripresa. Ho la possibilità di arrivare a un GSD di 5 cm, che significa avere un pixel che ha la dimensione al suolo corrispondente di 5 cm, di conseguenza ho la possibilità di vedere e di vedere gli alberi, si vedono chiaramente gli arbusti, tutte le aree pavimentate, piuttosto che le panchine e i punti luce. Sicuramente come primo prodotto è possibile offrire l'ortofoto, l'ortofoto digitale, quindi con questa ripresa aerea si fa una mosaicatura di tutti i fotogrammi e è possibile avere una base cartografica di tipo ortofoto caricabile nel sistema Green Spaces e che è l'elemento di più immediato utilizzo anche dai meno esperti. Su questo poi andiamo a costruire la nostra banca dati e quindi la prima cosa da fare è quella di costruire una perimetrazione di ogni singola località, qui vi riportiamo una porzione di un parco dove oltre al confinamento della località ci sono anche altre aree che sono quelle di gestione, di fruizione degli impianti sportivi, c'è un campo da basket, c'è un campo da calcio e c'è anche un'area su cui insistono poi le attrezzature ludiche. Con il metodo fotogrammetrico, quindi utilizzando i fotogrammi aerei, viene ricostruito tutta la banca dati, dapprima le superfici a verde, le S1 che sono tutte le superfici del verde orizzontale, quindi i prati e le aree tappezzanti, l'S2 che sono le superfici dell'arredo urbano, quindi generalmente le aree pavimentate piuttosto che nelle superfici dei campi sportivi, vengono rilevate le siepi sostanzialmente che sono presenti, tutto l'arredo urbano di tipo lineare come per esempio le panchine, per aggiungere poi successivamente anche l'arredo urbano di tipo puntuale, quindi vengono mappati, vengono rilevati i canestri come le porte da calcio, come le attrezzature ludiche, per finire con l'elemento forse più importante, più interessante, quello su cui ci si focalizza giustamente la maggiore attenzione, che sono gli alberi. Ecco, questa banca dati è strutturata con questi shape di facile intuizioni, S sta per geometria di tipo areale, quindi superfici, L sta per geometria di tipo lineare e P chiaramente di tipo puntuale, e sono le specifiche che vengono richiamate dai cam. Tornando un attimo quindi all'altra presentazione, volevo mostrare quali sono le fasi del processo fotogrammetrico e quindi oltre alla ripresa aerea, che è la fase iniziale, c'è tutta un'attività di appoggio con sensori GPS per riportare chiaramente tutta la banca dati, tutto il rilievo nel sistema geografico nazionale. Viene quindi fatta un'operazione con questi vertici misurati, che si chiama triangolazione aerea, quindi vado a legare tutti i fotogrammi per avere un unico blocco georiferito e georeferenziato con precisione decimetriche. La fase più importante è la fase di restituzione fotogrammetrica, quindi come si vede in queste immagini, i nostri operatori con delle workstation digitali caricano i fotogrammi e hanno la possibilità di fare una visione stereoscopica di tutto il territorio e vanno quindi a digitalizzare, diciamo così, i fotogrammi e quindi a fare la restituzione di tutti gli elementi che sono previsti. Un'attività assolutamente importante poi è la ricognizione cartografica, quindi i nostri operatori muniti ormai di tablet con tutto quello che è stato acquisito nella fase di restituzione vanno a fare una verifica sul campo affinché venga verificato e validato che l'operatore della restituzione abbia visto giusto, abbia restituito tutto quello che c'è realmente sul territorio ed eventualmente integrato di quegli elementi che per forza di cose spesso sono nascosti, per esempio per la vegetazione e quindi con tablet e con strumentazione di campagna è possibile poi fare questa integrazione. rientrati in ufficio, l'ultima fase è quella dell'editazione, quindi della strutturazione finale degli shapefile, come abbiamo visto prima, e che sono appunto l'input della piattaforma Green Spaces e quindi a questo punto la Francesca Di Maria, il chiedetto Di Maria, ci illustrerà come proseguire quindi dal caricamento di questi dati alla gestione. Grazie Emanuele per questo intervento. Vorrei ricordare innanzitutto anche ai partecipanti di utilizzare la sezione a destra dello schermo per inserire i vostri commenti e domande. E ora vorrei passare la domanda all'architetto Francesca Di Maria che ci mostrerà come questi shapefile vengono utilizzati in pratica per programmare in seguito la manutenzione. prego Francesca. Grazie Giulia e ringrazio anche l'ingegnere D'Averio per l'ottima introduzione che ha fatto su tutta la parte che riguarda il censimento in campo, l'acquisizione dei dati e tutto quello che è inerente diciamo la raccolta delle informazioni di dettaglio che riguardano la gestione del verde. Adesso condividerò la mia presentazione, lo scopo della mia presentazione è quello di mostrarvi come i tre livelli del CAM che sono diventati obbligatori proprio quest'anno possono essere implementati all'interno della piattaforma Green Spaces e come possiamo attraverso i dati prodotti dall'ingegnere D'Averio importarli in maniera molto semplice e elementare all'interno della nostra piattaforma e su di esso ad esempio andare a pianificare delle lavorazioni quotidiane. Allora procedo con la condivisione del mio schermo. Vado con la presentazione in totale. Allora il titolo del mio intervento di oggi è l'import del censimento dei dati e la programmazione dei lavori nella piattaforma di Green Spaces. Allora faccio un breve riassunto, ho preparato proprio tre brevissimi slide per introdurvi quello che abbiamo che già la dottoressa Climina vi ha accennato ovvero i tre livelli del CAM di cui il livello 1 che è un livello obbligatorio obbliga tutti i comuni alla creazione di un'anagrafica delle località. Questo è facilitato all'interno del nostro applicativo e vedremo come perché io in sostanza vado a creare un'anagrafica, un elemento di tutte le aree che gestisco in base alla loro tipologia che siano essi verde stradale o verde di un parco storico di un giardino attrezzato o il verde di un quartiere. Adesso posso andare poi a collegare una serie di informazioni che proprio il CAM nella scheda B mi dà come obbligatorie e questo lo vedremo. Tutto ciò è fattibile all'interno dell'applicativo nel menu dedicato che si chiama località e poi implementare la diretta e di dettaglio scheda. Il livello 2 invece è quello che richiede in sostanza la creazione di un censimento inerente al patrimonio alborio, patrimonio degli alberi. Anche questo è gestito all'interno del nostro applicativo con un menu dedicato al menu delle piante da cui io posso accedere e creare all'interno del sistema o importare come vedremo a breve tutte quelle che sono le informazioni inerente il nostro patrimonio alborio. Vi ricordo che la scheda B, quindi allegato B de CAM, richiede una numerazione univoca delle piante, una sua geolocalizzazione, una sua definizione all'interno di un'area, quindi sono la pianta numero uno che mi trova all'interno del parco Dante ad esempio. Una data di inizio che è la data di impianto, una data di fine gestione che per il nostro elemento alborio ovviamente sarà il momento in cui la pianta verrà abbattuta. Una specie, un nome comune, nella sua tassonomia, i dati biometrici, quindi l'altezza, il tronco, il diametro della chioma, la sua fase di sviluppo, cioè il periodo in cui la fase fisiologica della pianta è un neoimpianto, è una pianta nella sua fase scesnescente, nella parte di invecchiamento, nonché tutta la parte che riguarda chi è effettuato il rilievo, quindi fondamentale, e la data, cioè il momento in cui io so che qualcuno è andato a censire quella determinata informazione. Il livello 3D CAM è quello che un po' ci ha mostrato l'ingegner D'Averio, ovvero la possibilità di acquisire tutti gli elementi che ricadono all'interno del verde. Quando parliamo di verde non parliamo esclusivamente di lavorazioni che riguardano lo sfalcio, i prati, le alberature, i cespugli, le siepi, ma andiamo molte volte ad interessare anche oggetti che riguardano l'arredo urbano, come il cittadino fruisce con le determinate zone del verde, quindi le aree cani, le aree giochi, anche tutto ciò che riguarda quindi con la sicurezza e quindi la sicurezza del cittadino. Ecco perché poi all'interno della nostra piattaforma abbiamo proprio delle sezioni dedicate che riguardano proprio la sicurezza degli alberi o la sicurezza stessa degli elementi ludici. La creazione di questo censimento degli elementi del verde all'interno della piattaforma può essere editato dai nostri clienti in due maniera, o attraverso funzioni di editing, che ci sono direttamente all'interno della mappa e lì vi invito a partecipare al nostro stand, quindi per vedere attraverso i miei collaboratori come è possibile editare queste funzioni. Oggi nel webinar invece che cosa guarderemo? Guarderemo le funzionalità di import shape file, quindi quei file che ci ha mostrato l'ingegnere D'Averio andremo ad implementarli all'interno della piattaforma. Successivamente faremo una pianificazione, quindi andremo a programmare effettivamente dei lavori di sfalcio, taglio erba con raccolta, qua vi ho riportato un esempio, o ad esempio delle potature su determinate alberature, proprio per dimostrarvi come è semplice e facilmente intuibile all'interno della piattaforma, configurando ad un lavoro l'oggetto di quel lavoro, la sua unità di misura, il suo prezzo, io riesco a tenere sotto controllo tutte le lavorazioni e le attività di manutenzione che vengono realizzate su determinati oggetti del verde. Inoltre questo mi consente di avere un GANT, di avere una programmazione sempre sotto controllo, di poter estrapolare la rendicontazione di quelle che sono le attività che ho eseguito e quindi anche di attribuire a ciascuna ditta che impatta sull'area verde perché magari a determinate ditte si occuperanno di un tipo di manutenzione, altre si occuperanno di altri tipi di manutenzione ma ognuno potrà accedere alla piattaforma con livelli diversi di dettaglio in base magari alle singole lavorazioni di cui si occupa e quindi andare poi a vederle all'interno dell'applicativo. Ora accedo direttamente alla piattaforma, quindi chiedo a Giulia se è visibile la schermata perché ho avuto un momento di pausa. Sì, è visibile. Perfetto. Allora, questa è la schermata di accesso che vedono i nostri clienti dopo essersi logati all'URL di riferimento. Io qua proprio per l'evento Floormart ho creato un utente apposta e già caricato un'area di esempio. Però vediamo qual è tutto l'iter che deve essere seguito all'interno della piattaforma per poter implementare gli shapefile di quel giardino che ci ha mostrato l'ingegner D'Averio. Adesso sposto un attimo la mia immagine perché mi oscura il video. Quindi all'interno della piattaforma io qua vado subito a assolvere il livello 1 dei CAM, ho un generale, località e qua avrò l'elenco dell'anagrafica delle aree che vado a gestire. Per creare una nuova scheda località non faccio altro che editare il tasto nuovo e andare a compilare quelle che sono le informazioni dell'anagrafica che poi sono quelle che mi richiede il cano. Qua ho creato una zona apposta per l'evento quotidiano, darò un codifica a questa area, posso andare a mettergli un nome, quindi la chiamiamo giardino test ad esempio al giardino, scusate, eccolo qua. Ecco qui che andiamo a correggere, scusate. Posso dare una descrizione che magari sono gli accessi a questo giardino. Detto questo, che cosa posso fare? O inserire direttamente da mappa la perimetrazione della località oppure creare esclusivamente l'anagrafica andando a compilare quella informazione che mi chiedeva il CAM, quindi la tipologia di verde e magari posso dire che è un'area ricreativa, la classificazione istat e dire che ad esempio è un'area di arredo urbano ed è un'area che si trova in una zona ordinaria della città. Con questo campo ad esempio posso tenere sotto controllo quello che è lo stato d'avanzamento dei lavori, del censimento all'interno della località e magari la mettiamo che è in lavorazione. Posso dare una data di inizio e dico magari oggi, ad oggi, com'è la situazione e vado a salvare l'anagrafica della mia località. È un po' come se vado a inserire un report, un record con quelle che sono le informazioni principali della mia area. Non riesco a vedere. Qua mi dà un errore in questo momento ma manca il... proviamo a riflessare un attimo della nuova pagina per controllare. Vediamo. Probabilmente sono un po' i problemi di connessione in questo momento. Allora, riproviamo a rimettere la descrizione della mia area. Faccio velocemente così recuperiamo il nostro giardino a test, il nostro giardino a test e stavo dicendo, scusate, quindi rimetto i miei dati, messi i dati inerenti la mia località. A questo punto stavo dicendo la mettiamo in lavorazione perché ci stiamo proprio lavorando e non vado altro che a salvare l'anagrafica dell'area. Ecco, adesso ovviamente è tornato questo. Nel momento in cui io vado a salvare la scheda della mia area, come potete vedere, mi si sono attivate sottostante determinate informazioni. Quindi io ad esempio potrei attribuire un'impresa o più imprese. Questa sarà una delle differenze che se venite al nostro stand vedrete rispetto alla precedente versione che era R3GIS. Quindi io qua posso dire che questa località la vado a assegnare ad un'impresa o a più imprese, in questo caso l'assegno alla nostra lisa e con il campo categoria lavori posso ad esempio dire che l'impresa R3GIS si occupa esclusivamente delle allevazioni che riguardano ad esempio gli alberi oppure solo quello che riguarda la manutenzione degli oggetti dell'arredo o la pulizia o ad esempio sul verde in generale gli sfalci o le potature o la creazione di nuove eyewall ad esempio. Se invece non compilo niente in sostanza R3GIS può eseguire diciamo lavori su tutte le categorie e lavori all'interno di questa località che sono andata a creare. Salvo questa informazione e vado a importare le geometrie perché come vedete in questo momento io non ho né una preview di mappa perché l'area ovviamente non l'ho disegnata con i tools di editing che vi dicevo né tantomeno un'immagine. Dalla sezione oggetti è quella che mi aiuta per andare ad inserire quindi a importare gli shapefile. Quindi vado nella sezione oggetti. Anche qui nella sezione oggetti è possibile anche qua volendo andare a disegnare le singole geometrie. Singole geometrie che vado a definire in base al loro utilizzo e alla loro manutenzione all'interno del sistema. Quindi ad esempio utilizzando il P1 andrò a editare oggetti puntuali del verde, alberi, cespugli. Utilizzando l'L1 andrò a editare le linee quindi le siepi e così via le superfici del verde quindi i prati, le uole, le tappezzanti. E nella categoria P2 invece vado ad editare in sostanza gli oggetti di cui faccio gestione cada uno, metro o metro lineare che riguardano l'arredo per finire con quella che è la definizione dell'area. Volendo invece importare mi trovo una funzionalità di import. Quindi sulla destra attraverso questa icona ho la possibilità di caricare direttamente quelli shapefile che vi ha mostrato l'ingegnere D'Averio. Ora, scusate un attimo. Qui vi consiglio per chi decide di importare autonomamente quindi da un utente avanzato che sa utilizzare software quali possono essere QGIS o ARCMAP di editare quindi in autonomia questi file. Per fare questo il mio consiglio è quello di accedere a questa id info dove si apre in sostanza una pagina che vi mostra ovviamente dove andare a reperire il modello del CAM perché è proprio un modello dati implementato all'interno della piattaforma OpenSpaces e vi va a dare dei piccoli suggerimenti su quali devono essere i campi obbligatori da compilare all'interno della struttura tabellare dello shapefile e come sostanzialmente editare le singole codifiche per inserire, sostituire, storicezzare o caricare nuovi oggetti. Inoltre attraverso questo tasto io mi fermo per farvi vedere la scritta, è possibile scaricare i template vuoti di esempio. Quindi è un po' come se la piattaforma vi predispone già uno shape per ogni tipologia di geometria che vi consente poi di andare a popolare in fase di editing ad esempio attraverso un software desktop. Quindi vi faccio vedere qual è il risultato, quindi scende sostanzialmente un template di questo tipo dove ho dentro per ogni geometria da editare il mio shape di riferimento. Ok, ora, tornando a noi, che cosa andiamo a fare? Noi andremo a importare il censimento che abbiamo visualizzato prima. Fondamentale è questo, quando, vedete io ho già creato la cartella con il nome dell'area, l'area si trovava in zona 50 e l'ho denominata 002 in quanto esisteva già un'area 001 che era un parco di test che ho caricato per poi mostrarvi altre informazioni. Quindi all'interno di quest'area per consentire l'import devo in sostanza caricare un file zip. Un file zip che comprende l'estensione di tutti i file afferenti il medesimo shape. Quindi io non faccio altro che prendere l'estensione e creare da esso un file zip. Quindi come se facessi il tasto destro, crea cartella compressa. Ok, perché io all'interno della piattaforma importo esclusivamente file di tipo zip. Vediamo come viene l'import. Quindi scelgo la mia cartella di destinazione su un desktop, io ho creato l'area test per il floor mat e qui ho il mio censimento da importare oggi. La prima geometria che vado a importare, ad esempio, è il contorno dell'area, che quindi è l'S3. Faccio apri, clicco scarica. Quando mi arriva il mio messaggio che lo shape zip è stato caricato, non faccio altro che dirigermi sotto la colonna azioni e cliccare import. Il momento in cui clicco import, mi dice gli oggetti che saranno importati all'interno del sistema, se faccio annullano li calicherà, se faccio applica vedranno salvati all'interno del sistema. Questo è il tempo che viene impiegato, le qualifiche sono state salvate. Carico a questo punto il secondo file, che quindi sarà l'S2, che riguarderà le superfici dell'arredo. Quindi le pavimentazioni faccio sempre applica, schiaccio carica, il mio zip viene portato all'interno del sistema, riclicco nuovamente sull'icona per importare le geometrie. Saranno 24 oggetti, anche qua applico, applica. E così sono state importate anche le nostre superfici dell'arredo. Andiamo a scegliere quindi gli S1, ovvero le superfici che riguardano i prati, le macchie, gli arbusti, e quindi i tappezzanti. Faccio apri e anche qui carico il file zip. Vado sempre sotto la colonia azioni e importo. Ci sono 17 elementi e faccio applica. Vedete che la scritta è nero. A volte può, se c'è un problema, quindi c'è una geometria corrotta o dei campi non compilati correttamente, in quel caso il sistema ve lo evidenzia, vi evidenzia il errore con una scritta rossa. proseguiamo con l'import dei file, quindi adesso importiamo le geometrie lineari inerenti agli arredi, facciamo apri, nuovamente carichiamo il file zip e andiamo a importare anche esso. Sono 20 geometrie, anche qua andiamo ad applicare. Ci mancano ancora pochi file, quindi portate pazienza. Adesso andremo a importare lo shape L1, lo shape L1, quindi quelli inerenti dei siepi. facciamo sempre carica e importiamo a sistema due siepi all'interno della nostra piattaforma verranno integrate e andiamo a importare gli ultimi due oggetti, quindi gli oggetti puntuali. Quindi prendiamo gli oggetti dell'arredo P2, quindi saranno cestini, fontanelle, lampioni, giochi ad esempio. andiamo a caricare anche questo shape, facciamo l'import. Magari qua impiegherà un po' più tempo perché sono più oggetti. Quindi attendiamo 40 oggetti, vedete il sistema è anche piuttosto veloce, considerando che abbiamo, io sono connessa in questo momento da casa e poi siamo indifferita sul webinar, quindi diciamo che i tempi d'attesa sono piuttosto veloci. e in ultimo andiamo a caricare le geometrie puntuali inerenti alle nostre alberature. Quindi P1 facciamo apri e carichiamo l'ultimo shape, quindi andiamo a importarlo. Qua impiega un po' di più perché lo shape inerente agli alberi, qua sono 84 alberature, contiene anche informazioni non solo inerenti alla geometria e alla posizione, ma anche ad esempio la sua tassonomia, ai dati dimensionali, quindi questi possiamo direttamente poi vederli all'interno della piattaforma. Accensimento completamente caricato, se adesso vado in Statistiche, vedete che ho importato il mio oggetto, quindi ho due piante abbattute, 79 delle piante vive, ho dei cespugli, sette giochi singoli e due giochi complessi, e così via. Il sistema immediatamente, quindi mi ha caricato tutte le mie geometrie, suddivise per la loro geometria, quindi gli elementi puntuali, gli elementi lineari, quindi io vedo ad esempio due siepi per un totale di 65 metri, e così via, tutti gli altri oggetti, fino a quello che è il limite della località, che è circa 16.900 metri quadri. Ora, salvo. Vedo, in questo momento sto creando l'anagrafica di tutte le località sul mio comune. Vi faccio vedere intanto, ad esempio in mappa, il risultato del nostro caricamento. Vediamo un attimino, in questo momento. Come dicevo, diciamo la connessione in questo momento magari non ci aiuta tanto. Quello che è importante, come vi dicevo prima, è poter quindi implementare all'interno del sistema tutti i singoli shape, i singoli shape, che come avete visto ho caricato per singoli livelli, tanto nel momento si sta popolando la nostra mappa. Quindi questa è la geometria, è sostanzialmente il rilievo che vi ha mostrato prima l'ingegner Davvero, caricato all'interno della nostra piattaforma. Quindi qua abbiamo tutti gli oggetti degli alberi, dalla mappa io posso vedere ciascuna alberatura, oppure il numero, il cartellino, tutte le informazioni che ho su DS. Ad esempio posso accendere l'ortofoto ed andare a zoomare ad esempio determinati particolari o oggetti che sono stati censiti all'interno della piattaforma. Quindi avete visto che il caricamento è avvenuto molto velocemente. Ora, chiudo la parte di mappa e vi mostrerei quella che è la parte che riguarda ad esempio la programmazione dei lavori. Quindi chiudiamo un attimo questa parte. Quindi, come vedete la piattaforma vi consente poi ad esempio di andare a ricercare per tipologie di verde, per zone oveggine in cui si trovano questi parchi, per ditte che si occupano di quella località o zone che potrebbero essere i singoli quartieri dell'area e adesso ho creato un'unica zona per l'evento di oggi afferente al floor mart. Andiamo a vedere ad esempio come può avvenire una programmazione dei lavori. Quindi, c'è una sezione dedicata che è la sezione lavori qua sulla sinistra io vado su lavori programmati e vado a creare una nuova lavorazione. In questo momento la mia lista dei lavori è vuota io vado a popolarla sempre nella stessa maniera. Io troverò i tasti del nostro sistema del nostro software sempre in alto a destra nella medesima posizione. voglio ad esempio creare un lavoro faccio un lavoro sul giardino test che ho appena fatto scelgo di fare un lavoro che riguarda il verde orizzontale mi vengono scremati solo i lavori quindi prendo ad esempio il taglio dei tappeti argosi attribuisco ad esempio questo lavoro ad R3GIS posso dare più date o una data singola per fare quell'intervento o un margine di date magari do circa una settimana di tempo per fare questo taglio di erba e se guardate in automatico il sistema mi ha già compilato la quantità quindi 14.044 metri quadri di prato questo perché qua sotto ho il dettaglio dei singoli oggetti a cui la lavorazione è associata se espando vedo quanti sono i singoli prati che fanno i 12.800 metri quadri e vedo anche i prati in scarpata che ci sono all'interno della località che per un totale di 1213 se decido di sfalciare ad esempio solo ed esclusivamente i prati in piano e non i prati in sfalciata posso togliere questo flag e vedete che in automatico la quantità del mio sfalcio è andata a ridimensionare ovviamente avendo anche l'importo so direttamente quanto andrò a spendere su quella singola località faccio salva e in questa maniera torno all'elenco dei miei lavori il momento in cui faccio il primo salvataggio mi crea questa preview di mappa dove va a evidenziare sostanzialmente quei bordi blu evidenziavano quelli che sono i prati soggetti allo sfalcio quindi vedete io qua ho inserito un lavoro che è diventato rosso perché oggi è il primo dicembre quindi già il sistema in automatico quando mi avvicino alla scadenza del mio lavoro va a colorarmi da un iniziale color nero a rosso proprio in modo tali che mi passino subito all'occhio quelli che sono i lavori da fare ne inserisco un altro lavoro per mostrarvi ad esempio un lavoro fatto sulle geometrie degli alberi qui ad esempio prendo sempre il mio giardino sceglierò quindi una lavorazione dirente gli alberi magari scelgo una rimonda del secco posso ad esempio in questo caso ad andare a tribuire voi ricordate avevo dato questo lavoro all'impresa R3G perché avevo associato lei a quella località potrei ad esempio dare questo lavoro ad un'altra ditta che al momento non aveva visibilità al sistema ma al momento in cui gli pianifico un lavoro lui temporaneamente potrà accedere a quel lavoro e vedere quella località anche lui magari dico questo lavoro abbiamo fatto nella seconda settimana di dicembre quindi faccio la mia portatura del secco vedete che in automatico il sistema mi ha già dato 79 perché 79 sono le alberature andando ad espandere il mio menu vedo le singole piante che ricadono all'interno dell'area potrei defleggarne qualcuna o decidere ad esempio di fare una portatura di rimonda su tutte esse faccio il mio salvataggio e torno banalmente al mio elenco lavori ed ecco qua che compasso il mio secondo lavoro vedete che questo invece è in nero perché non sono diciamo nella settimana quindi non è un'imminente scadenza di questo lavoro detto questo eseguire un lavoro è molto semplice perché io potrei come vedete modificarne magari le informazioni cancellarlo se sbagliarlo dare un'esecuzione del lavoro e quindi in automatico il sistema registrerà l'utente l'orario in cui è stato fatto quel lavoro richiedere di archiviare questo lavoro perché ad esempio magari non più necessario oppure chiedere di riprogrammarlo e in questo caso il sistema mi chiederà in automatico una motivazione di riprogrammazione in modo tale che io a fine anno posso sapere fare statistiche fare valutazioni e dire come mai questo genere di lavoro lo faccio sempre in ritardo e la motivazione magari scoprire che magari mi vengono forniti dei ricambi sempre tardi o magari ho degli operatori che impiegano più tempo ad eseguire questo lavoro detto questo io tornerei quindi chiuderei il mio intervento e tornerei a salutarvi interrompo la condivisione grazie grazie mille Francesca ho visto sulla piattaforma di Floormart che non abbiamo ricevuto tante domande tecniche per fare una discussione vi comunico già che la registrazione di questo webinar sarà disponibile sul nostro canale di R3G su YouTube quindi potete sempre tornare e riguardarla vi ringrazio tutti per la partecipazione chiedo gentilmente agli partecipanti che non si sono registrati tramite la form sul nostro sito aziendale di farlo in modo che riusciamo ad inviarvi i certificati di partecipazione vi invito a continuare questo discorso all'interno dei nostri stand digitali troverete Ingegnere D'Avereo presso lo stand di SCM e troverete Architetto Di Maria e me presso lo stand di R3G grazie vi auguro una buona giornata e buona fiera buona giornata a tutti buona giornata grazie arrivederci